L'ultima parola sul pane è la bellissima pubblicazione di Animamundi che ci fa conoscere e apprezzare e amare la poesia di Fuad Rifka. Per chi non lo sapesse il poeta è uno dei maggiori innovatori della poesia araba contemporanea. I versi di questo libro nascono da silenzi abissari, li scandagliano, li attraversano per poi farne una preziosa poltiglia di antimateria stilistica e metrica che rende luminoso e luminoso il quotidiano, il nostro quotidiano. L'ultima parola sul pane è un libro in grado di nutrire in maniera totale l'uomo e il suo animo perché, come afferma Rifka, la poesia è come il pane, semplice e sacra. È un filo elettrico in grado di connetterci con l'infinito, con la natura, con l'anima del mondo.